Nuove sfide e novità positive attendono le imprese abruzzesi nel 2024 e nei prossimi anni e numerose opportunità verranno offerte dalla ZES Unica o ZES Sud. La zona economica speciale Abruzzo, nata nel 2020, ha già prodotto ricadute importanti sul territorio e alla vigilia della presentazione di un nuovo insediamento produttivo a Mosciano Sant'Angelo, la AERA, che produrrà auto elettriche, il commissario straordinario della ZES Abruzzo, Mauro Miccio, traccia un bilancio dei risultati già conseguiti e annuncia quali effetti avranno i nuovi investimenti previsti in termini economici ed occupazionali. L'Abruzzo praticamente avrà rispetto a prima l'ampliamento a tutti gli 82 comuni degli aiuti di Stato a fine età regionali, che in buona sostanza vediamo in questa carta alla mia destra, e sostanzialmente poi avrà le semplificazioni amministrative invece per tutto il territorio abruzzese anche se non avranno in quelle aree non segnate credo di imposta agevolativo. Dall'altro noi però abbiamo fatto all'inizio del 2022 in cui abbiamo cominciato a occuparci di investimenti anche privati, abbiamo avuto una importante realizzazione di molte aziende che hanno voluto investire, medie, grandi e piccole. Il grande tessuto connettivo dell'Abruzzo è rimane la piccola microimpresa, ma devo dire che da parte di tutti i soggetti hanno fatto ampliamenti, attività molto significative da quel punto di vista. Devo dire che l'occupazione già oggi abbiamo quasi 200 persone in più su 241 milioni di investimenti che sono stati già realizzati. Dall'altra parte arriveremo quasi investimenti di più di un miliardo e avremo a disposizione anche assunzioni che arriveranno fino a 1.000-1.500 persone a fine procedure e investimenti previsti. Dall'altra parte abbiamo però le sei opere infrastrutturali che mettono l'Abruzzo che è al centro della logistica e sostanzialmente dobbiamo fare in modo che questi sei investimenti che sono tutti partiti come da rego del PNRR, tutti aggiudicati, tutti operativi, arrivino a dare prima possibile, cioè entrano in oltre il giugno 2026, quelle infrastrutture a sostegno delle merci e della distribuzione delle merci che vanno per ferrovia, per mare e per strada. E questo lo lascio agli abruzzesi perché tutte le aziende che hanno vinto l'appalto sono tutte di titolari abruzzesi e quindi l'Abruzzo è in mano il suo futuro anche sulla logistica e sulle infrastrutture.